eccoci buonasera buonasera a tutti finalmente riesco riesco a fare il video allora io vi dico subito che non sono riuscito a vedere quasi nulla di partita perché ero perché ero in viaggio e a sprazzi l'ho sentita ho sentito un po un amico siamo ringrazio che mi ha aggiornato un po sulla partita praticamente c'è stata c'è stato dei problemini sulle fasce poi con dalla parte di venuti che non ha dato il massimo sicuramente odrio zola certo però un po di turnover ragazzi bisogna farlo anche perché si gioca ogni due giorni come cazzo fanno questi cristiani a dare il massimo ci sta comunque ci sta comunque un po di calo con tutte con tutti questi minuti giocati e tutte queste partite ravvicinate però sono stati comunque bravi nel secondo tempo che poi sono riuscito a vedere gli ultimi gli ultimi 20 minuti finali la squadra insomma ha fatto ha fatto bene ha cercato il pareggio e castrovilli benissimo oggi ha fatto anche un grandissimo gol terzi c'è da da come ho sentito alla radio non era partito benissimo però poi dopo comunque ha fatto anche l'assist ha fatto una buona partita una buona partita sicuramente non ho capito molto bene perché igor e non quarta su lasagna secondo me questo è stato un errore un errore però sai non sono io l'allenatore e certamente italiano italiano saprà meglio di medici sicuramente chi mettere chi mettere in campo un 1 a 1 che comunque va bene perché comunque il verona con un gran tifo è una buona squadra direi che è veramente una buona squadra insomma dato noi a tante a tante squadre prendo questo punto molto 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 volentieri e insomma certamente si vuole sempre sempre vincere però non è non è sempre non è sempre così ora niente continuiamo come come stiamo facendo perché comunque va bene nessuno se lo sarebbe aspettato ad oggi un una classifica del genere ora saponara non ho visto neanche su internet perché comunque sono tornato a casa ho fatto da mangiare non ho visto su internet niente di quello che si può che può avere o cosa si sia fatto al al polso alla mano che sia dopo mi documenterò meglio e niente dai prendiamoci questo punticino e prestiamo già testa alta alla prossima gara che comunque come ribadisco un ottimo punto a verona io ragazzi vi saluto buonanotte e sempre forza viola ciao da leonardo vi saluto buonanotte